Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono Smith Terry ed eccoci qui per l'episodio di Crusader Kings 3 andati qui insieme al nostro caro re Engil, secondo me questo è il suo nome che quanti sono cambiati in ottimo episodio, solo Dio lo sa e siamo pronti a conto all'avventura di Enna Allora, nel secondo episodio ho detto un po' di povera perché abbiamo sempre riunito tutti i regni e poi la morte del nostro re, la divisione confederata, creava altri regni è una cosa buona perché, sulle decisioni di ricordare c'è la dinastia Omenicrow e noi per so abbiamo ben due, prima erano tre, ma poi quel babbalè, il nostro fratello è morto e quindi ha perso il suo regno non per lei, per un'altra persona, lasciamo stare, veramente, quante brutta mamma mia lasciamo stare, lasciamo stare questo siamo nell'anno 1010 dopo Cristo, mi è stato l'anno 1000, infatti dico anno quindi dopo averne una fine, altri anni e siamo pronti a continuare un giorno di una nostra dinastia di Christ Strg, Strg, Strg si nomi, però mai allora abbiamo un po' di problemi con il nostro fratello che ci vorrebbe il trono ma lui è in prigione quindi c'è il fratello poi, l'azione è per voi anche nostra sorella addirittura Così C'è la nulla Arrivano lì E vogliono essere I loro Regnanti E poi c'è Questa fazione Di Merzia Che avesse Quella più pericolosa Secondo me Siamo su No Non so C'è nessuno su Nessun approccio Diciamo Di problematico Proviamo Diciamo subito Sulla nostra cara Heba Heba Di Merzia Vediamo un po' Di fargli cambiare idea Perché ripeto La Merzia È un grande Rene importante E io vorrei Tenere sotto il mio Contro Tanto quanto è La Merzia ragazzi Comunque Allora Con letto Il nostro obiettivo Maximo È quello Di prenderci Tutta la Gran Bretagna Siamo Il Galles Anche se siamo In guerra Con Witch Che vorrebbe Prendersi Parti del nostro I dominio Del Gallese L'Irlanda Proviamo un po' A riprenderci Con la forza Mentre Ardo Abbiamo un bel E Quando ci vedete Che siamo in guerra Abbiamo un bel claim Che ci dovrebbe garantire Il contro di tutta l'Alba Così Da poi mancare Poca Irlanda Poca Mancare solo Acquitatori Qui E con le cittadine E sono tutti In sud Con Inghilterra Che però Non è la forza Di un tempo Va bene Facciamo Allora Il nostro Caro prete Non è la forza Non ci Endorse Ma Non faccio niente Per adesso Ce ne freghiamo Potrò Sperire Lei a lui Cioè lui E lei Ma se alla fine È Non aspetta Lui dove sarebbe Lui è qua Ok si Io odiamo Si è tutto suo E lei è più felice Con cui Non voglio Con cui Perché non voglio Per avere troppi figli Anche già forse Ne ho due Almeno Almeno Ne ho solo due E devo cercare di creare Questo maledetto Regno Impero Ora che siamo Regno Impero Ci vuole Andiamo subito qui A prendere I soldi di Witch Prima che arrivano I loro alleati Vagiamo i animali Guarda come stanno scappando Con dei codarti Pravi loro Stiamo qua Siamo con questi qua Con questi uomini Sono 1500 Stiamo molto attenti Molto attenti Sono ancora scappando Di questa parte Li pigliamo qui Mettiamo un bel 4 Perché quando stiamo in guerra Andiamo sul 4 Cioè quindi Devo farli unire Che 1500 Sono 3100 Non so se si unirebbero Insieme Quindi meglio evitare Tutto Qua Sì Dami i soldi 20 Basta che mi vuole bene Allora Mi ho fatto male Vabbè Andiamo a prendere questi qua Ora Anche se no aiuto Non sarebbe gradito Vogliamo per la nostra figlia Accettiamo No Handur Quindi Sveglio Mia zia Che sveglia Anche da tal Qui ci da più I tratti Non ereditabili Ma appunto I tratti Il suo carattere Ma Sei un'intelligente Ovviamente Il nostro figlio Imparerebbe meglio Certe cose Questo è Il tempigione No Quindi se no Stai la sorella In Galles Il nostro figlio Pesso è Secondo Quando dice i voti Che è il primo Scusate C'è lui Il re in 1 Con solo un voto Qua sono due Il re è Dalla Ma niente Lucio Dalla Non può fuori tanto Va bene Va bene Poi ci pensiamo Dove Adesso pensiamo A Insomma La questione Delle Guerre civili Pegliamoli Per favore Stanno scappando Ma li incrociamo Vai lì Direttamente Vai lì Che stiamo vincendo Però Voglio avere Il più soldato possibile Ok E siamo 2000 Abbiamo perso Un bel po' Va bene Allora Andiamo Icui Sono 1.9 Questi Com'è possibile 1.9 17 mesi Noi siamo In totale E 2.033 Siamo Ah Questi sono Qui rimasti Grandissimi Dobbiamo di scappare Perché ci vogliono unire Siamo 2.033 Ci serve Aiuto Assolutamente Il Prince Jarl Lui ha 600 soldati Non può Viene perché Si deve scegliere E Direi Peltrami Scusami Vabbè Adesso Ci siamo Il primo E Viene A aiutarci Che Diamo No Finiamo Uno E poi Pensiamo All'altra Guerra Va bene Il concilio Sta lavorando Nel frattempo Si Molto bene E vediamo Un po' Di riunire le forze Sotto Un unico capo Mettiamo questo Quello che è un bel 29 E andiamo A fargli Malo ancora una volta Su Eccellente Tutti finiscono la guerra I soldi Ma Così finirebbero Per Soprattutto Perché Sono lì Fede Ci aspettano Massimo Invantaggio Grandissimo Grandissimo Il mio Comandante Birg Birg Ok Ok Qui sta combattendo Aiutiamoli Aiutiamoli Sono nemici Penso di no Non possiamo aiutarli Va bene Ok Ci ho provato E' un'altra guerra Questa Ah si Ora si Prima no Ora si Va bene Dove Dove sta andando Andiamo a riprendere Questi Che Ecco Stanno da qui Siamo già 51% Con loro Ci da White peace Su Off White peace Perfetto E' una guerra E' finita Ma siamo solo Contro questi Ma ce la facciamo A voglia Così Andiamo proprio Nello territorio Va E' una guerra Vinta Si facciamo Un accorto Dai Un accorto Sono sempre Oh Oh Ci può uccidere Mai Ah Voglio uccidere a lui E lei Allora è la spy mask Certamente Pensavo Serevo uccidere me Ma vabbè Lascivano stare E allora Andiamo per la cittadina Troviamo un sostituto Vabbè Continua Andiamo per la cittadina Andiamo un po' Non ci stiamo Vediamo un po' Sette mesi Meglio Se già possono Chiedere la white peace Penso di no Infatti I stati però Stanno finendo E questo è davvero Il rottore di scatole Lei quanto c'è Scusimi 3,50 Però non Non servono gli alleati Perché comunque Sono Una contena Dello giland Che è veramente Inutile Prendi i miei soldi A favore Stanno scappando Dove vai Dove vai Ma dove vai Venga qui 39 Per solo Cioè Ci da Meno per centurità Che sono Eserciti piccoli Ma se questo è il loro massimo Che colpa ne ho io Ah che bello Allora So far Ho ransom 15 Mi piace Guardian per Mamma il nostro figlio capellone E allora Lui è ambizioso Stubborn Ma è ancora un guerriero Prendiamo lui Ok Quale direme perderei Scusami Perché non ha figlia Beh farà figli Non c'è problema Che problema c'è Allora voglio il posto qua Voglio il posto Io No Pafu Vassar Solo qui E anche diplomazia Lui è buon diplomatico Anche meglio Mettiamo lui Prince Car Ecco che bello E Dalla Stronome di Stewardship Mentre Gandalf 13 Lui si è venuto per Stewardship Mentre questo uomo Vabbè Mettiamo lui Che è il nostro fratello Che ci rompe un po' le scato Che c'è anche una fazione Contro di noi Quindi stiamo attenti E anche Lui di toglierlo Ci mettiamo Dalla Dai Sì sì Nella sentita di farlo Per ora Per avere Un po' di controlli Siamo un po' in quella civili In guerra e divisione Ci sono troppe guerre E ci sono un po' di stabilità Ma questi qua Che stanno a fare questi Per capire Tu amico mio Che cosa sta a fare Liberty War Vabbè Difesa Bah Non capisco cosa vogliono Non capisco cosa vogliono Io non ho perk Perfetto Taxman Assolutamente Mignorosi le entrate 11.8 Un po' se migliorano Un pochetto 11.9 Peggiorato Che bello Ehm Come va con la Strega 16 Mignor 16 Perfetto Che ci veniamo la capitale Diforziamo Accedere Perfavore Eh Sei tu la migliore Assolutamente Se si converte anche meglio Ecco Qui Ecco qui Jorvik Ragazzi Inghitata qui Dei pezzi Ma Jorvik E questo qua Io ho 2.300 uomini Doviamo a 1.000 uomini Alleati Lei ne ha 1.600 E già in guerra Con questi qua Che sono Oh 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 Una bella cosa Però io vorrei fare Alleanze Come aveva fatto Mio caro nonno Ormai nonno Diventato 7.000 uomini Allora Un'alleanza No ci da Reclaim Io ho la figlia qui Di un nipote Io sono il player No Il secondo figlio Ma non ci da Alleanza però Non ci da Alleanza Se non mi piace Mi sono giusto Facciamo questo Allora Allora C'è una runa Sì La facciamo E Per il padre Che è morto Un grande padre Persone Chi è Scusami No Ma Mio padre Lo faccio Non reading Dai Un grande uomo Si Medita questa E non si incame Di 1.5 Davvero Molto basso Perché è così Basso Posso chiedere Però le soldi E questa Questa Buona giusta La duchessa Mamma mia E' indebitatissimo Non voglio concubini Assolutamente Non mi testa Per sapere Le concubini Io poi metto Qui Così Quasi Un difensivo Dai Ok Sono 1.6 Eeeh Leviatano Prendete gli arpioni Io cos'è Me la rischierei E ci facciamo 100 Il rischio E' stato Pagato A dovere Oddio E' creduto Un joypad Va bene Va bene Il caloma Va bene così Allora Alba 2100 Era molte alleanze A molte alleanze Mi sono stati Nici L'irlanda Mi sono venire con l'irlanda Che è 1009 E' diventata Declare war Di acclaim Sono simili forze Ma non abbiamo più soldi Scusami Che succede Qui All summer Some place It should mine Ma eccomi Half brother Prince Karl Scambi for me Sì 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 Tu Accredito Il kingdom Of galles You get a weak Con Prince Karl No Col cavolo Vedo cosa posso fare Ma col cavolo E poi mi perdo Il territorio No All your claim Faccio la nostra guerra 3100 L'eser Maledetta Non me l'aspetta Mettiamo lui qui Che è un bel 14 E allora La mercia è qui Però la mercia è suo Quanti come c'è la mercia 1700 Per essere vicino Lo metto qua Sai calmo Fairlix Rise or here E io li fagli male Sì riveliamola Guarda 2004 Così dal caso proprio E mi sembra un aiuto Ci sono i mercenari E Holy Lord C'è l'olio No Sì Sì Dove stanno Dove stanno Mamma mia Bababia Io Finalmente posso usare i mercenari I miei I miei uomini Finalmente Loro scappano Maledetti Infimi Guarda come scappano Gli altri non so dove sono definire ma Questi qua sono chiusi Sono chiusi Vanno in montagna Proprio perché sono chiusi 7000 uomini Mamma mi facciamo male Gli facciamo male E ora che c'ho l'ordine sacro E allora Ok 45 45 Cioè andiamo a mettere la capitale Così poi la ricattiamo Per bene Qua manca un uomo Ci mettiamo lui Il nostro grande soldato L'altra armata è scomparsa Cioè questo è un po' Che non mi piace Che sono i miei territori Si deve adesso Tutti i tuoi altri Ok Ma io vi stanno adesso qui Vabbè 14 mesi Mamma mia Sono un lutto di 42 Eh sì Metti in caccia va E allora Un po' Se possiamo fare un po' Di soldini 24 Accettiamo dai 45 Wilt 37 Accettiamo Ecco qui Un'altra 1000 Ma noi Mi prendiamo la capitale 5 mesi Sono passati E 9 mesi Perfetto 28 Maledetto Deviato Ma tu come ti permetti A dimmi Da me In prison Cos'è di mettere In carcere Ah Sono un deviato Ok Enforce demand So be it Disband all Ok E la merce È stata presa O lui O lei Nostaggio E allora Io poi le toglie tutto Lei togliergli E dare le cocco A mio figlio Un po' la successione Come va Perdo solo Allora Perdo Gales Perché c'è qua La scuola Sì Gales E lui West Ridi Mi serve Una contea Ma sai Quasi Quasi Arrivo col title Yallon di Mercia Ciao Si rinsegna A andare contro me Ecco Si release The My Conversation E reclutiamola Si Si donna Cittadino Solo una Ok Lemmio De rama Faccio Un regalo Non posso No perché Lei è donna Ecco che Non si va a Convertire Ransom Niente Non ci da Erbo Lui lo Convertiamo The My Conversation E reclutiamolo Metti un bel tre E la messa Signore mei E sistemata Ok Ora io voglio dare Un titolo a lui Vedere la sua Una Wachester Wackershire Perfetto E qui c'è un po' Casino Perché tutta la messa E' ben divisa Io ho un po' Gli soldi Ma la messa E' tutta Bella divisa Però se la Successione Avviene La messa Va a lui E me Va più che bene Perché Bolton Non dà soldi Eh Si è vinto Il mio cuore Qui non va bene Perché non Facciamo soldi I problemi Ci sono Molinizione Oh che Boutto Asa True Noti Ok Ok Alba E' sempre 2003 Noi siamo 2008 E' un momento De attaccato Mi c'è L'Irlanda Per i miei Claim Declare war Io ho tetori Qui No Allora Li mettiamo Appunto qua Così non Ci sono i nemici Posso richiamare Sempre mercenari No Ok Non so Torneranno Dopo Torneranno Dopo Se torneranno Sarebbe Una grande Mossa No Andiamo Subito Qui In Irlanda Sbarchiamo E Cerchiamo Di prendere Appunto I Nossi Domini Anche se Messa Qui Una Grazie Sotture Di scato Tutti Tutti Le messe Sono Questi Scusami Lei cosa vuoi Titto Claimant Vabbè Sì Non ci Interessa Più di Tanto Qua stiamo Conquistando Quattro messe Anzi Abbastanza Veloci Ma La Merse Cioè Le Solo Due Cittadine Aveva In pratica Sì Lancaster Ancora sotto Contro L'inglese Alba Questa Parte Del Gal Insomma Pensiamo Dopo Io vorrei Più In Bari Kingdom Sinceramente Con Inghilterra Proprio Possibile E Inghilterra Di Se Per Se Non è Così Forte Mmm È Un Piatto Succurrente Dall'Inghilterra Perché Appunto 100 Uomini Dove Facciamo La Guerra Qui Cerchiamo Di Prendersi L'Islanda Non so Da dove Sta Sta Qui Attacca Alba E Che In Guerra Con Loro Pure Che Loro Vogliono Quel Territore Lì Mi Dispiace Ma Devo Approfittare Alla Fine È Giusto Che Si Così Uniti Di Nuovo E Un Po Che Successe Anche Con Con Guillermo Con Con Quistratore Quando Lui Presse La Gran Betà In 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 S' Alla Sua Morte I Fii Sono Sped I Regni E In Più Ci Fu Anche La Guara Civile Fra Mi Sembra Enrico Secondo Se Ricordo Male Quindi E Ci Postare The Dreaming About State Questo Che Mi Darebbe Più Tegi Di Qua C'è Solo Il Mi Calmo Ma Posso Prendere Prestigio Facciamo Nostra Figlia Nostra Sorella Ha Un Figlio Si Chiama Glow Va Bene Ok Invece Sono Ancora Qui Irlandesi Noi Stiamo Conquistando I Irlandesi Questa 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 A Cinque Perché Voglio Sbrigarmi Lui È Il Re Di Scozia Eh Sì E Lui Re Di Forse Immorta Lei Che C'è Posso Che C'è Prima Scozia No Vero Ma C'è Un bel Claim Che Devo Approfittare Di Prendere Chi Sono Questi Ostili Non Mi Piace Kingdom Denmark Che Sono Alleati Non Contro Di Noi Anzi Siamo Contro L'Irlanda Per Cosa Non Guardo Questi Scusami Che E Staguerra Per Una Città Non Le Erdom Questo Un bel Problema Perché Poi Andanno Contro Noi Sicuramente Allora A donation Facciamo una donazione Va E Miglioriamo anche il rapporto con il nostro Ma chi è questa Mamma mia una guerra C'è va tutto all'olo col cavolo Mila Giusturano a fare questi la guerra Permetti un attimo Pausa Per favore Che voi sono Contro I noi I miei fratelli Sanguini Qua Sono contro E quindi In teoria Potrei chiamare I mercenari Ecco I qui 4008 Che mi vanno In mezia A fare Caciare Qui c'è Tavo capo Lui E andiamo A pigliarli E andiamo a pigliarli Lo devo fare Due occhi qui Un grosso occhio allo Qua è finito Ok Andiamo alla capitale Mentre loro E i miei uomini Qui Li stanno Li stanno unendo Maledetti Ok Fermo 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 Che sono Un bel po' 3.400 3.400 Se ne stanno andando Un aspetto Oh perfetto Ok Prendiamo questi Prima di tutto E loro Stanno scappando Maledetti Ma io vi prenderò Questo può essere Prendere il controllo Delle regione E dividere Come voglio io Non voglio loro Ok Fermo tutto Qua mi dai Dammi più Leva 6.000 Anche con i mercenari Penso No Si Qui stiamo conquistando E Questi sono nemici Giusto Andiamo a prendere pure Questi Ed è loro Forse sono Ridotte al minimo Direi 1.900 Perfetto Questi sono 61% Spero che non mi rompano A me le scatole Queste Perché fino a dopo Io Quella giornale Che andiamo a prendere Eccoli qua Stanno scappando Maledetti Dove vanno Ok 27 Perché 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 27 Hanno preso queste Maledetti Che scatole Veramente Che scatole Da quelli Come vanno Lì Con tranquillità Si Assedio Adesso Che arrivo io Ora Vi faccio vedere Tutti io A voi Tutti in carcere Vi mando Si Vai qua Incrociamo Perfetto 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 Enforce Di mana E tutti Vanno in carcere Tutti Vanno In carcere Concentriamoci Su questa Guerra E loro Non ci sono più Ovviamente Però Voglio anche Stemano un poco Le cose Qui Perché Ho fatto La guerra Allora Chi erano Quelli Rivoltosi Vediamo un po' Se riusciamo A vedere Prisoner Allora Lei Maledetta Lei non Posso fare Niente Lui E tu Vuoi perdere Tutto E vabbè Ciao Io Voglio aiutarti Ti aiuto Allora Revoco Title Leicester Leicestershire Anzi Revoco Title Noptimshire No Siamo 6 Su 6 E così Gli anglosassoni Li togliono Le scatole Perfetto Lei ha dei claim Ma non ha più niente Perfetto Lui Non ha niente Lui non ha niente Lei Vediamo che ho il titolo Non mi interessa Diciamo tutto Basta Sono stanco Di questi Anglosassoni Che Io gli do Veramente Tanto E lo fanno Gli scatti Contro di me No Allora La capitale Della E E Warnick Del Mercia E così Qua ti darei A mio figlio Il secondo Grand Title Warnick Shire 3 Sono quelli Che danno di meno 0,5 Però Qua c'è Un bel 2 E 4 Non lo tengo E la Mercia Tutto Io Do Perché 3 Ne ho 4 Scusami Ah beh che no Sto reading Che no Però Arrivo con Taito Pura Te Arrivo con Taito Io Pura lui Tutto Te Ed ecco Fatto Tutti Jorvik Ho il ducato Di Jorvik Che è tutto Mio L'ancasa C'è questo Ricco Luminese E c'è una città Mercia Che è Abbastanza Ricca Worcester Poi Tu state Lavorando Va bene E va bene Ecco si Ci siamo sistemati Non abbiamo più Ducati Nostro figlio E' felice Di avere un ducato Perché se no La successione E' tutta Apposta Anche il Galles E' tutto Apposto Non ci credo Sì perché sono tutti In carcere I candidati Che bello 29 voti Tranquuno Perfetto Perfetto Abbiamo anche 366 Ducati 37 Penso Poi fare un po' Di soldini Ragazzi Un guardino Per lui Io sono Deviato Ma come ti permetti E allora Chi ha dei tratti Buoni Lui è Paziente Temperato E giusto Non è male Tu continua a conquistare Qui Facciamo soldi Sì Liberiamo Lei Ecco Qui L'hanno andata Già Quasi Tutta Nostra Andiamo Qui Sì Facciamo una guerra Coministiamo anche Qua città Che ci dava Tanto A quanto pare 17 Mesi Che succede Non arrivò Ah ecco Che è successo Non è rivolto In pratica Non so Qui 1500 Perché così pochi Tutti morti Ok Enforce demand So be it E io Ritorna pure qui Ora Alba si è preso Un po' Cittadine Maledette Ma Tutto occupare Andiamo a 3 Disband Tutto per ora Ok Successo N'Irlanda Ci metto Sempre In mio figliolo You have Brother No Dove Stai In mio figliolo Your son And player Lui Sì Dov'è Ecco E Quarto Con un voto Ma andiamo in carcere Quindi Vediamo un po' Sistemare un po' Tutte le cose Chi è l'uco di monster È lui Lannister C'è questo di qua Va bene E allora E allora ragazzi Direi posso finire qui Il episodio di oggi Che Hanno fatto Tanto Dobbiamo un po' Di fare queste cose qui Fare un po' Di soldi Questi qua Togliamo assolutamente Non mi interessa più Tanto Lo control Sì Poi ci penseremo Lo pieno con lui Poi lo miglioriamo Anzi Già possiamo fare Ma abbiamo riuscita A questo Va bene Sì 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 Immersia Ok Due azioni Lui Non conviene Lei non conviene Assolutamente Prigionarla E Continua a fare soldi Sì Su qui Ok Dai così 275 Allora E allora Allora Mi sono quindi Molte città Ine Questa città Paui Appartiene Al Galles Che sono io Ovviamente Il prossimo passo Secondo me È traccare Alba Che è in guerra Un po' Con tutti E in inglese Si è rifatta Già forte Non sono 2007 Nuovo Ma l'inlanda È divisa Tra Shealand Così Questa è Diversa Dipendente Io Posso fare una cosa Declare war Your claim Percibiamo tutto E Allora Declare war Guarda Sono due conti È divisa Che facciamo con lui Così Lo c'è Un po' Felice E La logicina Si può fare Quella Un po' Declare war Diedi no Lo so Non ducato Ma la logicina È potente Lasciamo stare Per ora È una guerra A lei Inferiore Tre guerre Alba È lì La capitale Quindi ci conviene E allora ragazzi Vi vediamo di oggi Così Con le Tre guerre Ad Alba Connacht E Ormond Con questo Noi ci vediamo Tutta la scorsa Possibilmente in Irlanda Nel nord E pure qui Ci vediamo Connacht E qua Quindi Solo Dipendente Il nostro controllo So Gran Bretagna Shieland Questi regni Che poi vedremo Come se male Sono molto forti Loro E soprattutto Ci prendiamo Poi Non era solo L'Inghilterra Ora Il mio uomo Sta creando molto bene Come Mi ha reso Molto bene Come architetto Come architetto Conte Che mia Vi saluto Io vi lascio Un like Commentare Di la vostra Se l'avete fatto Iscrivete al canale E attiva la campanellina C'è notifiche Di nuovi video Che usciranno E vi ricordo Anche se mi sono sul canale Viola Do fare live E sui vari social Come facebook Instagram Tiktok Per seguire più Sul mio lavoro E vedere altri Contenuti multimediali Che caricherò Sui vari social Vi ricordo anche Delle canale D'Arcano Un canale Che so Gestine In collaborazione Con un mio amico Su cui Parliamo di Misteri E cose Criptiche Se vi piace Queste cose E anche un po' loro Se vi piacciono Queste cose Facci una visitina Detto questo Al prossimo episodio Al prossimo interi Passo e chiudo